La cosa straordinaria che ho trovato in questo paese è la voglia di fare, così un po' diciamo man mano che lavori queste due culture si mescolano e si compenetrano e danno, viene fuori un terzo elementi, un'energia che altrimenti non si trova. So one of the main attributes for Narhutis as a company and as a brand is the price and the quality ratio between the products. This has enabled our dealer network and our partners to be very very competitive on large tenders and small tenders on frameworks and has allowed us to move forward in the UK grave. This is an area of focus for us on all new development of product and to continue this competitiveness edge within the UK and the European and global market. Very wide range of machinery allow us to produce difficult constructive solutions in a fast more rationally and effective way. We test our products and we have ECHO, ISO and product quality standards. We are also using NIN management system for efficiency and better results. We are using NIN management system for questions. We can give a professional help. If anything goes wrong, we can do it quickly. Our customers also use our price list as an tutti i nostri prodotti sono di un'altra qualità, con un prezzo extremamente compititivo, reconnato da i nostri clienti in 36 paesi e distribuito da un reso strategico e professionale di più di 250 distribuitori. in un modo standardarticoli produzione, in un altro anche anche diverse stelle e poter fare i clienti in una certa costante. Grazie a tutti.